Benvenuti ragazzi o bentornati sul mio canale sono Divix, video molto particolare perché avevo da dire tantissime cose e a queste cose si è aggiunta la notizia dell'ultimo secondo e cioè quella che sta saltando definitivamente l'affare Summersic, un giocatore che ci aveva veramente fatto sognare un'operazione già praticamente chiusa, accordo con l'Udinese, accordo con il giocatore Fabian, è stato anche insultato su Instagram perché sembrava che fosse lui il colpevole della non chiusura di questa trattativa, Summersic ha già fatto ieri le visite mediche oggi i procuratori sono venuti in sede e pare abbiano cambiato le carte in tavola chiedendo più soldi, commissioni non si sa perché è una notizia talmente fresca che mentre sto facendo il video non ho ancora i dettagli quindi non so se sia ufficiale ma in questo momento quello che arriva a me è che siamo al 90% che sia saltata questa trattativa vedremo se sarà così perché ovviamente i dirigenti da questo punto di vista qua non gli piace essere presi per il naso se ti dicono una cosa poi vogliono sia quella e quindi non hanno voluto firmare, non hanno voluto chiudere la trattativa ma a prescindere da questo l'analisi e il video che io devo farvi riguarda tutto il mercato Inter perché la narrazione di questo mercato è completamente sballata e soprattutto non è assolutamente credibile per qualsiasi persona abbia un minimo di raziocinio e obiettività adesso vi spiego perché secondo me c'è qualcosa che non ci stanno dicendo e cos'è che non mi convince e cosa c'è dietro invece secondo me nella realtà scrivetemi qua sotto come sempre i vostri commenti so benissimo che molti di voi sono incavolati perché me l'hanno già scritto commenti, messaggi eccetera eccetera in due secondi avevo il telefono intasato però prima guardate il video, buona visione c'è qualcosa che non mi convince nel mercato dell'Inter e non è Zhang, non è Marotta, non è Osilio ma è, come ho detto nell'introduzione, la narrazione cioè quello che i giornali ci stanno raccontando di quello che sta succedendo in casa Inter gli obiettivi, i problemi, le priorità eccetera eccetera perché c'è un fatto che è inequivocabile, incontrovertibile, che nessuno può negare ed è che l'Inter a metà luglio aveva trovato un accordo definitivo con il Chelsea per l'acquisizione del cartellino di Romelu Lukaku per la cifra di 35 milioni più 5 di bonus 35 milioni più 5 di bonus sono 40 milioni di euro quando c'è stata questa trattativa, l'Inter aveva chiuso questa trattativa ma l'Inter allo stesso momento, nello stesso momento, sapeva perfettamente che oltre a Romelu Lukaku avrebbe dovuto comprare un difensore avrebbe dovuto comprare due portieri e avrebbe dovuto comprare un centrodampista quindi minimo c'erano altri quattro elementi da inserire e in quel momento lì, a metà luglio, aveva trovato un accordo con il Chelsea per l'acquisizione di Romelu Lukaku da quando Romelu Lukaku è saltato, è sparito, si è dato, ha provato a trego la Juventus, golmina, eccetera eccetera quei soldi sembrano essere spariti, puff, nel nulla nessuno più li ha visti e l'Inter sembra essere rimasta senza soldi ma soprattutto, la cosa che mi lascia più perplesso è che l'Inter da quel momento lì, pare abbia cambiato priorità dieci volte diverse nel corso di 30 giorni c'è qualcosa che non convince di tutta questa storia perché le opzioni sono due la prima è che abbiamo dei dirigenti completamente incapaci e mentre io a luglio vi raccontavo ragazzi, oltre a Lukaku servono due portieri servono un centrodampista, servono un difensore e forse serve anche un altro attaccante se salta qualcuno o un esterno se riusciamo a vendere qualcuno quindi servono almeno altri quattro giocatori minimo voi pensate veramente che Marotta e Ausilio non sapessero o non avessero ricevuto richiesta da Inzaghi di questi giocatori? se qualcuno pensa che io sia stato più bravo di Marotta e Ausilio io vi ringrazio vi ringrazio veramente tanto però non è credibile la seconda opzione è che quello che ci hanno raccontato i giornali e tv eccetera eccetera in questo mese non sia stata la realtà di quello che è successo all'Inter e soltanto chi è dentro veramente dentro può sapere cosa sia successo dopo che è saltato l'affare Lukaku l'episodio oggi di Samardy non so quanto sia legato a questa situazione quello che so è che io non credo assolutamente alla versione che l'Inter abbia cambiato 5 priorità in attacco negli ultimi 20 giorni perché prima era Lukaku poi è saltato Lukaku è diventato Morata poi è saltato Morata è diventato Balogun poi è saltato Balogun è diventato Scamacca poi è di nuovo saltato Scamacca è tornato Balogun poi è di nuovo saltato Balogun ieri è diventato Arnautovic stamattina è saltato Arnautovic comunque sta trattando Arnautovic ma la priorità è Taremi e ognuno di questi nomi che io vi ho fatto in questi 5 secondi sono passati 20 giorni nella realtà è stato piantato sui giornali come priorità assoluta dell'Inter l'Inter ha individuato questa priorità vicino sta trattando sta chiudendo se c'erano a metà luglio 35 milioni 40 milioni per Lukaku oggi quei soldi non possono essere spariti e se qualcuno vi sta vendendo se li è presi Zang ragazzi l'Inter fa passivo da 20 anni tutti gli anni nessuno tira fuori un euro dall'Inter anzi semmai ci sono da mettere i soldi dell'Inter nessuno si prende i soldi qualcuno mi ha scritto i soldi di Onana se li è presi Zang no perché l'Inter fa passivo ogni anno nessuno prende utili dall'Inter anzi purtroppo ogni anno c'è da coprire i passivi e questo è il motivo per cui Zang ha chiesto un prestito per coprire i passivi dell'Inter i 40 milioni che sono stati offerti per Lukaku erano dei soldi che sono stati budgetizzati e che non è credibile che siano spariti io sono qua in prima fila e ci sto mettendo la faccia ve lo dico quindi è un video che faccio a rischio della mia dignità oggi non credo a nulla di quello che sta succedendo ve lo dico proprio sinceramente se a fine mercato ci troveremo senza Samarzic con Arnautovic Correa Turam e Lautaro ovviamente davanti con un difensore preso in prestito e senza che siano stati investiti i soldi di Onana io sarò qua in prima fila a criticare pesantemente il mercato Inter pesantemente visto che ribadisco che molti dicono sei troppo aziendalista pesantemente ma non riesco a livello logico a credere a questa versione che i giornali ci stanno raccontando io ho veramente fiducia in Marotta e Osilio perché nel corso degli ultimi 5 anni hanno lavorato senza un soldo senza un soldo l'ultimo mercato vero dell'Inter è stato il primo di conte quello con Lukaku Barella eccetera eccetera poi l'Inter ha lavorato sempre senza soldi e nonostante ciò ci hanno mantenuto lì io mi fido io non credo che l'Inter veramente abbia cambiato per aiutare il mercato nell'ultimo mese sette volte io non credo che l'Inter si sia fatta prendere il naso dagli agenti di Samasic non voglio crederla questa cosa se così fosse sarebbe molto grave ci potrebbe essere un'altra squadra dietro si è parlato il West Ham oggi non lo so se è vero questa cosa non credo che l'Inter si sia accorta l'11 agosto il 10 agosto il 9 agosto che sia che ah dobbiamo comprare anche un altro difensore è vero quindi non abbiamo più 40 milioni per l'attacco neanche 30 neanche 20 ne abbiamo 10 perché poi avevano spesi 20 milioni per Tomiasu non credo assolutamente che Inzaghi accetterà di partire con Arnautovic Turam Lautaro e Correa perché quello che mi avete detto ieri che sarà un downgrade per me è evidente che lo sarà poi vedremo se i numeri ci danno ragione o no perché ribadisco che c'è molta differenza su Turam c'è molta differenza su Arnautovic e questo è ok ma non è possibile presentarsi in astre di partenza dopo aver fatto dichiarazioni a giugno a luglio a fine anno dicendo partiamo per vincere la seconda stella e poi fare un mercato partito con i fuochi di artificio cioè con Turam con Frattesi e finito con i soldi di Onana che dovevano essere investiti per costruire una top squadra e io mi ero detto super favorevole a vendere per investire e poi ci troviamo l'11 agosto che di questi soldi sono stati investiti 0 euro quindi io aspetto questo non è un video di critica io aspetto aspetto e rispetto soprattutto i miei dirigenti li rispetto perché il mercato chiude a fine agosto e non so quale sia il piano che hanno in testa però c'è un però condizionale ovviamente poi i conti arrivano prima o poi il conto arriva siamo pazienti ma fino a un certo punto soprattutto perché il 19 inizia il campionato bisogna anche capire perché se poi tutta questa attesa è stata fatta per arrivare ad Ornatovic a un prestito di un difensore e far saltare la trattiva di Samarzic allora ovviamente le critiche sarebbero non giustificate super giustificate come vedete io al momento sono ancora tranquillo vi chiedo la vostra opinione vi chiedo comunque sia di aspettare dare un giudizio definitivo anche sull'operazione Samarzic che potrebbe saltare molto facilmente ma potrebbe anche non saltare voi scrivetemi i vostri commenti noi ci vediamo al prossimo video se non siete iscritti al mio canale e vi piace l'inter iscrivetevi ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti